Alla fine di marzo, cioè fra poche settimane, ci sono le elezioni regionali e qualche altra Elezione amministrativa, adesso si vedrà, in capoluoghi importanti o invece in città e cittadine Che cosa si va a votare? Visto che c'è il maggioritario e che per forza siamo condizionati dall'idea Che uno deve votare o il centrodestra, cioè Berlusconi e i suoi, o il centrosinistra, cioè gli oppositori I veri o sedicenti di Berlusconi e i suoi, la domanda a distanza di due mesi, a due mesi dalle elezioni è Si va a votare e si va a votare per chi? Io vi faccio una proposta culturale in linea con i nuovi mostri E con l'idea di resistenza che io personalmente, forse non solo io, ho oggi in questo paese L'idea di resistenza pratica, parlante, non silenziosa Da qui a quando andremo a votare e quindi con il tempo per vedere se succede qualche cosa, se ci orientiamo in qualche modo e via dicendo Io vi propongo di dare segnali forti di schifo, avete capito bene, di schifo Cioè ci hanno messo in condizione di non sapere per chi votare al di là di tutto Perché il livello è troppo basso, è troppo basso eticamente, è troppo basso intellettualmente, è troppo basso culturalmente È inesistente politicamente, vedete la politica è un'altra cosa Quella di cui parliamo oggi, tutti i giorni, alle prese con il centrodestra, il governo, con il centrosinistra, l'opposizione Quella che è, dopo anche i recenti episodi di gennaio, tutto quello di cui parliamo sono affari Comitati d'affari, contrasti d'affari, interessi contrapposti d'affari Ebbene, da qui alla fine di marzo io vi propongo di mandare segnali forti attraverso il blog Mandando lettere ai giornali, scrivendo dovunque, dappertutto Per segnalare il fatto che ci hanno messo in condizione nel 2010 in questo paese Di non sapere per chi votare perché siamo sommersi dallo schifo e dall'indignazione Chi ancora si può indignare? C'è un altro aspetto, qualcuno dice Eh beh, però non si può non votare anche turandosi il naso Ragazzi, sono 20 o 30 anni addirittura che ci turiamo il naso, ci turiamo le orecchie Ci turiamo gli occhi, ci turiamo altri bucchi che adesso non sto a nominare Sempre di mostri, in fondo si tratta, basta Vogliamo che almeno si sappia che se andremo a votare a queste regionali Sarà con un senso di schifo formidabile Ecco, forse è l'unica condizione per cercare di metterli sull'avviso Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!